Si intitola Il grande trasloco ed è uno spettacolo che il Teatro Forum porterà alle cantine Copuf di Varese, sabato 21 settembre. In scena un pugno di personaggi alle prese coi conflitti in capo al consumatore, dinamiche che collegano la pancia al portafogli, spesso prescindendo dalla testa, cioè dalla capacità di fare leva sulla cultura e sulla consapevolezza, in parole povere, sull'arte della scelta, ragionata e possibilmente sostenibile. Invito i cittadini a venire al Teatro Forum, il grande trasloco che si terrà sabato 21 alle cantine Copuf alle ore 20 e 45. Metteremo in scena dei conflitti e la soluzione verrà trovata insieme agli spettatori. Uno spettacolo interattivo dunque che il movimento consumatori spera di condividere con un'ampia fetta di pubblico intenzionato a pensare in maniera spensierata. Le soluzioni più interessanti verranno poi montate in un video che raccoglierà le dieci tappe nazionali del Teatro Forum. Da qui l'invito di Palazzo Estense. Cari concittadini andate e dite cosa pensate anche voi.